Presidente, la proposta della settimana corta per le scuole a che punto sta? Abbiamo fatto un primo incontro con tutti i dirigenti scolastici e anche con i dirigenti dell'ARPA e adesso ci siamo lasciati con una intesa di massima a verificare la percorribilità della proposta. I miei uffici, il dirigente del settore competente, si incontrerà con i dirigenti scolastici per metter su una proposta omogenea di settimana corta strutturata però esclusivamente in orario mattutino. Ovviamente ci sono delle situazioni in cui questo è molto più difficile per cui verificheremo caso per caso la fattibilità. Una volta che avremo una proposta il più possibile omogenea la sottoporremo all'ARPA. Con il dirigente dell'ARPA, con il dottor Montanaro, siamo rimasti d'accordo che quello che si risparmia di corse, che si risparmierebbe di corse il sabato, possa essere anzi messo a disposizione come ulteriori corse nei cinque giorni. Quindi in sostanza ci potrebbe anche essere la possibilità di migliorare il trasporto per quanto riguarda gli studenti dal lunedì al venerdì. Sono stati anche valutati i pro e i contro per le famiglie? Sì, intanto abbiamo fatto anche un ragionamento sulla qualità dell'offerta formativa. Io mi occupo naturalmente di scuole secondarie di secondo grado. Lì i dirigenti hanno detto che tutto sommato un orario strutturato più o meno su sei ore può essere retto. E laddove ci dovessero essere dei debiti orari, si può lavorare, si può ragionare su allungamento di qualche giorno del calendario scolare.